spero che torrente se ne vada è un incapace non ha dato niente a questa squadra lo sappiamo che i calciatori sono scarsissimi torrente agli ultimi minuti non aveva nemmeno il coraggio di alzarsi dalla panchina non c'entra l'avanti come fai le forze a terra come fai le forze a terra noi mi facciamo denunziare c'è la matita con il sindico se lo fa una tampa posso farlo al mio state rovinando il mio terreno la difesa è doppio zero mi faccio chiamare fai una matita doppio zero un allenatore che non ha dato niente a questa squadra niente ma per niente si intende proprio zero meno meno allenatore è di doppia cosa c'è un'altra 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 che se ne va è uno schifo ciao un centro campista come Shadoni che sembrava il migliore della Serie B eppure non in gara con il solo un capitolo non sono umano perché mi ha dato sicuro un mistero è la loro burro andate di pucitere senza sangue senza sangue si gioca prima col sangue e poi con i piedi Fabiano chi vuoi dire Fabiano ne so ne so ne so ne so siamo scarsi non abbiamo un gioco mettiamo gabionetta da una parte Milingoviscia all'altra vedo uno contro uno il gol lo fai, c'è poco da fare loro sono scarsi loro sono stati umili poi abbiamo preso un gol in contropide stavano a prendere loro stavano a prendere loro la partita stavano a prendere solo loro di gente come me viene a prescindere viene sempre ma i commercianti chi passa il Natale in famiglia chi viene dalla provincia viene penalizzato enormemente è una scelta scellerata non esiste io penso che la società debba farsi sentire ma tutte e due sia la Senana che il Cagli per rispetto anche dei diffusi ospiti che vogliono avere no, no, per carità è necessario dare il Presidente quando vengono fuggire i campi oggi stavano fuggire i campi come uno scuolore talmente così alto che se mandiamo al curriculum possiamo giocare anche noi vaga e girano per il quartiere come è bello il tramonto che ho visto ieri sono che salerno e dico grazie a mamma grazie a tutti